Lavoro, ricambio generazionale Secondo il rapporto dell'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, non sempre le professioni sono sostituibili. Il ricambio generazionale, specie per i giovani nella prima esperienza lavorativa, è correlato al tipo di professione e al settore economico. Di conseguenza, non sempre agevolare la pensione anticipata dei lavoratori anziani aiuta a contrastare la disoccupazione giovanile. Riguardo alle professioni più qualificate, l'uscita anticipata dei lavoratori più anziani non favorisce l'ingresso di nuove eleve nel mondo del lavoro, mentre per i lavori poco qualificati il ricambio generazionale è assoluto e più economico. Per professioni quali quelle di legislatori, imprenditori, impiegati di alta dirigenza, intellettuali, scienziati, impiegati, conduttori di impianti, operai, conducenti di veicoli e militari, quando si va in pensione c'è un ricambio di meno della metà della forza al lavoro. Mentre sono in espansione con cambio generazionale assicurato le professioni di tecnici di vendita e distribuzione, le professioni sanitarie e riabilitative, i fisioterapisti, i podologi, ostottici e terapisti della riabilitazione psichiatrica. Altre professioni più sostituibili sono nel settore delle attività commerciali e dei servizi e nell'accoglienza dei settori del turismo. Per quanto riguarda le professioni tecniche tipo segretari amministrativi, archivisti, tecnici del lavoro bancario, esse sono in calo grazie anche all'informatizzazione che ha ridotto drasticamente il personale amministrativo. Le professioni legate all'innovazione tecnologica, come programmatori, disegnatori industriali e esperti di informatica, sono in netto aumento. Oggi, specie nel settore privato, le misure di uscita anticipata dal mercato del lavoro non sempre producono gli effetti sperati, anzi, spesso le imprese sfruttano i pre-pensionamenti come strumento per le ristrutturazioni aziendali, per ridurre il personale più che per il cambio generazionale. Di conseguenza, si è stimato per quanto riguarda la quota 100 per la pensione, che su tre pensionati entrerà nel mondo del lavoro solo un giovane under 30. Con il cambio attuale di governo si eliminerà, pari, la quota 100, ma siamo tutti in attesa di nuove disposizioni per poter andare in pensione. Notizie tratte da pmi.it, portale web italiano di informazioni legate alla vita di impresa. Teresa Bonazzi Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori,